Ho sentito anche qui parlare di una posizione non chiara del governo. Io penso oggettivamente che non sia sostenibile la tesi per la quale la posizione del governo italiano oggi a cospetto del mondo che ci guarda non sia chiara in tema di Ucraina. Io penso che sia chiaro a tutti salvo che ad alcuni all'interno di quest'aula che oggi grazie al fatto che c'è una maggioranza di centrodestra l'Italia è una nazione che rispetta i suoi impegni e non possiamo dire se sarebbe la stessa cosa nel caso in cui al governo ci fosse l'attuale opposizione. E purtroppo lo abbiamo visto già accadere colleghi perché quando c'era al governo di questa nazione ed era già esploso il conflitto in Ucraina una maggioranza molto variegata. E diciamo che le risoluzioni di maggioranza con le quali si chiedeva all'allora presidente Mario Draghi di presentarsi al cospetto del Consiglio europeo erano lontane luce, anni luce dalla chiarezza che noi oggi possiamo scrivere nelle nostre risoluzioni e che sono sottoscritte e lavorate da tutti i partiti di maggioranza. Per cui penso che questo sia quello che fa da sempre la differenza e lo voglio dire al collega, particolarmente al collega Provenzano perché oggettivamente mi pare che ci sia una questione maggiore nel famoso campo largo. Mi pare che ci sia un problema più ampio all'interno dell'opposizione, guardate non parlo solamente della posizione molto chiara, molto cristallina del Movimento 5 Stelle, parlo anche delle ambiguità di un partito democratico che spiega a noi che cosa dobbiamo fare e poi si astiene sull'invio delle armi all'Ucraina. Almeno non venite a spiegarci che cosa dobbiamo fare. Allora mi si dice che mi si dice Colleghi per cortesia avete possibilità di replicare dopo. Colleghi, colleghi c'è la possibilità di replicare. Colleghi, fate parlare Presidente del Consiglio. Colleghi, colleghi, non costringetemi a richiamare all'ordine. Colleghi, facciamo concludere Presidente del Consiglio, poi avete la possibilità di replicare. Dopo di che dice il collega De Luca, parli con Orban e con Salvini per chiarire il loro sostegno all'Ucraina. Guardi, io penso che in entrambi i casi parlino le decisioni e i voti. E i voti dicono che a livello italiano la posizione del Governo è chiara e i voti dicono che a livello europeo noi siamo riusciti negli ultimi due consigli europei sia a mandare avanti l'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea, sia a garantire una revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'Ucraina per i prossimi quattro anni. Quindi, in alcuni casi, quando io parlo, e in alcuni casi non avevo bisogno di farlo come nel caso del Ministro Salvini, ma quando io parlo con persone con le quali ho buoni rapporti e capace che riesca a portare a casa dei risultati, se voi provate a parlare con i vostri alleati del Movimento 5 Stelle e magari riuscite a fare lo stesso miracolo, l'Ucraina ve ne sarà grata. Sì, è vero, noi siamo al Governo, voi siete all'opposizione, però guardi, io non ho avuto bisogno di arrivare al Governo per garantire il sostegno all'Italia su questa materia, l'ho fatto dall'opposizione, perché non ho due facce, non ho due facce tra quando sto all'opposizione e quando sto al Governo. Io faccio delle cose che sono, prendo delle decisioni che considero giuste, le ho portate avanti dall'opposizione, anche quando c'è stato bisogno di dare una mano, continuo a farlo anche dalla maggioranza, per cui non credo che se si sta all'opposizione si sia più liberi su materie come queste di avere posizioni non chiare, ma lo dico perché lo ho dimostrato, penso che su alcuni temi le posizioni non debbano cambiare tra maggioranza e opposizione, penso che su alcuni temi, come in qualche intervento, qualche esponente della maggioranza, ma anche dell'opposizione, devo dire, ieri ha sostenuto se si riesce a essere compatti è meglio per la forza che l'Italia rappresenta all'estero, è per questo che dall'opposizione e dall'unica opposizione che ricordate, fratelli d'Italia al tempo era rispetto al Governo Draghi, noi abbiamo garantito, anzi, guardi, abbiamo garantito all'allora Presidente Draghi, dopo una risoluzione che era stata scritta per tentare di mettere insieme le varie anime della maggioranza e che io al tempo definì durante il mio intervento dall'opposizione una specie di manuale cencelli della politica internazionale, nel senso che si tentava di mettere insieme tutto il contrario di tutto e la posizione che ne usciva fuori non era molto chiara, lo ricorderete bene, perché i partiti di maggioranza si astennero sulla risoluzione di fratelli d'Italia all'opposizione probabilmente anche per consentire all'allora Presidente Mario Draghi di presentarsi al Consiglio Europeo con una proposta, con una posizione più chiara di quella che era espressa nella risoluzione di maggioranza. Dopodiché ringrazio invece il collega Rosato per un intervento che ho considerato molto lucido per aver anche riconosciuto, insomma, non voglio crearle problema collega Rosati nel dire questa cosa, ma mi pare che insomma il collega Rosato sia stato efficace nel chiarire una cosa che sembra sfuggire ad alcuni e cioè che è la Russia a non volere la pace. Perché delle volte quando noi, diciamo, quando io ascolto questo dibattito sembra quasi che diciamo nel campo di coloro che cercano di aiutare l'Ucraina a resistere a un'invasione ci siano quelli che vogliono la guerra a tutti i costi e nel campo di quelli che invece hanno invaso una nazione sovrana ci siano quasi quasi quelli che vogliono la pace. Ora, io perché dico che questa cosa mi preoccupa? Dico che mi preoccupa perché è quello che ho sentito dire a Putin durante l'ultimo G20. Io ho sentito, partecipava all'ultimo G20 in VTC il presidente russo Putin e il presidente russo Putin sosteneva una tesi, sosteneva questa tesi No, noi vorremmo, diciamo, no, vorremmo la pace ma gli altri non la vogliono e io al tempo ho risposto guardi che è molto facile se lei vuole la pace perché basta che ritiri le truppe dal territorio ucraino e avrà automaticamente la pace come lei ha voluto la guerra. Allora, io penso che su questo SOA bisogna essere abbastanza chiari e che per questo continuo a ritenere che quello che noi stiamo facendo in realtà è esattamente invece propedeutico a una pace perché a meno che non si intenda con pace quello che poi alla fine negli interventi si intende, no, gli ucraini sono ancora vivi cioè a dire meglio che rimani vivo anche se vivi sotto una dittatura piuttosto che combattere per avere la tua libertà. Io su questo non sono d'accordo, l'abbiamo detto tante volte penso che una posizione del genere faccia astrali di secoli di civiltà europea di secoli di persone che hanno combattuto rischiando la vita e perdendo molto spesso la vita per difendere la loro libertà perché ritenevano che non valesse la pena di barattare la sopravvivenza con la libertà ma questi sono punti di vista chiaramente, questi sono punti di vista alla fine questo si tradisce ma a meno che non si parli di resa e allora il lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro che cerca di costruire le precondizioni che sono necessarie per arrivare l'ho ripetuto tante volte per arrivare a un tavolo di trattativa, no? Quello che oggi si chiama stallo è un equilibrio che è stato garantito a un'Ucraina che era in forte, ovviamente, inferiorità numerica di mezzi un equilibrio che le consente di resistere che è la precondizione, ovviamente, per cercare di aprire dei negoziati così come lo sono, l'ho detto ieri in aula e lo ribadiscono le garanzie di sicurezza anche qui contestate proprio da quelli che ci chiedono di lavorare per la pace perché le garanzie di sicurezza sono anch'esse una precondizione a qualunque tavolo di trattativa voi capite che è un po' difficile per gli ucraini sedersi a un tavolo di trattative per cercare una pace con qualcuno che ha sistematicamente violato tutti gli accordi di pace che erano stati già sottoscritti perché non è che possiamo dimenticare che sono già stati sottoscritti degli accordi di pace non è che possiamo dimenticare il memorandum di Budapest con il quale l'Ucraina consegnò le sue testate nucleari in cambio dell'impegno da parte della Russia l'inviolabilità dei confini ucraini perché lei capisce che se l'Ucraina non avesse consegnato le sue testate nucleari sarebbe stato anche un pochino più difficile che la si potesse invadere quindi ovviamente c'è un problema tutti i siedi a un tavolo delle trattative negozi una pace che poi qualcuno non rispetterà dare garanzie di sicurezza da questo punto di vista cosa che sta facendo l'Italia che è una serie numerosa di altri paesi serve a precostituire anche qui questa condizione quindi sul tema della pace siamo d'accordo su cosa significhi quella pace probabilmente non siamo invece d'accordo dopodiché voglio dire diciamo al collega provenzano che diciamo fermo restando che come si sa io sono abbastanza d'accordo sul fatto che si debba parlare con tutti temo che sfuga una piccola differenza tra Abdel Fattah al-Sisi e Vladimir Putin e cioè che Vladimir Putin ha invaso una nazione vicina insomma no penso che questo elemento non sfuga che è la ragione per la quale ovviamente cerchiamo di dare una mano all'Ucraina dopodiché Medio Oriente Medio Oriente ricordate ragazzi signori vi vedo sempre un po' nervosi io so diciamo colleghi facciamo concludere Presidente del Consiglio prego Presidente non ho capito Presidente non è un dibattito conclude il suo intervento cortesia facciamo concludere il Presidente del Consiglio per cortesia per cortesia colleghi per cortesia vi ho chiamato ragazzo vi ho chiamato ragazzo chiedo scusa onorevoli giovani onorevoli siete giovani onorevoli no va bene va bene non vi sono particolarmente simpatica questo mi è evidente ma insomma diciamo che allora Medio Oriente eh onorevoli preferiscono onorevoli vabbè giusto è corretto onorevoli onorevoli colleghi mi chiedo vi chiedo scusa noi romani ogni tanto eh facciamo questa colleghi per cortesia facciamo concludere il Presidente non mi sembra che sia stata che sia stato detto qualcosa di sbagliato prego Presidente i romani sono meglio di questo sì ma dicono ogni tanto ragazzi parlando no vabbè allora mi scuso anche con i romani sì eh ragazzi posso dire ragazzi al governo no va bene andiamo avanti perché vedo un certo nervosismo quindi cerco di diciamo terminare tanto non ho moltissimo da aggiungere questione medio orientale questione medio orientale penso penso come ho detto che ma lo dico questo davvero per ribadirlo l'ho già detto ieri che sia sempre importante ricordare chi ha scatenato il conflitto credo eh ma penso anche e l'ho detto che ci siano alcune cose che vanno eh che vanno fatte sulle quali anche l'Italia cerca di avere una posizione chiara particolarmente per quello che oggi sta accadendo a Gaza non solamente perché credo nel rispetto crediamo nel rispetto del diritto internazionale ma anche perché temiamo un crescente isolamento di Israele credo che come ho detto e ribadisco oggi anche nell'interesse di Israele occorra innanzitutto ribadire cosa che io intendo fare con eh chiarezza la nostra contrarietà un'azione militare di terra da parte di Israele a Rafah che come ho detto ieri potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche sui civili lavorare e continuare a lavorare a un prolungato cessato del fuoco per il rilascio incondizionato degli ostaggi gli aiuti umanitari massicci mi dispiace ma lo dico davvero senza polemica di non aver sentito il riferimento ai civili israeliani in diversi interventi che sono che ci sono stati in quest'aula avviare iniziative concrete per una soluzione strutturale della questione palestinese su questo voglio essere abbastanza onesta anche su questo voglio essere onesta non è stato facile non è stato possibile nello scorso consiglio europeo arrivare a delle conclusioni che fossero chiare c'erano molte divergenze sul punto credo che l'impegno italiano debba essere quello invece di riuscirci in questa riunione del consiglio europeo di riuscire a fare in modo che il consiglio europeo possa terminare con una posizione chiara su questa materia ribadisco che considero grave e preoccupante l'ondata di antisemitismo dilagante anche nella nostra opinione pubblica la considero preoccupante particolarmente quando coinvolge le nostre istituzioni considero grave e preoccupante che il senato accademico dell'università di torino scelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con israele e lo faccia dopo un'interruzione con occupazione da parte dei collettivi penso che se le istituzioni si piegano a questi metodi oggettivamente rischiamo di avere molti problemi non sono d'accordo collega Fratoianni sul tema del ripristino immediato dei fondi all'Urnva che sono stati sospesi come lei sa che sono a disposizione ma penso che finché non sarà stata fatta piena luce su dove finiscono queste risorse non si debba fare questo errore che non vuol dire non occuparsi dei civili di casa perché mentre noi sosteniamo no guardi mentre noi mentre noi sospendiamo le risorse a Urva anche qui non è vero che non operano altre organizzazioni e altre realtà anche nella striscia di casa abbiamo eh trasferito eh 20 milioni di euro alle altre organizzazioni Croce Rossa Mezzaluna Rossa e quant'altro oggi stiamo per stanziare ulteriori risorse su questa iniziativa del progetto del progetto Food for Gaza per coordinare al meglio gli aiuti penso che questo si possa riconoscere al governo italiano e all'Italia perché poi ci abbiamo lavorato tutti insieme c'è un particolare impegno forse eh tra le nazioni europee uno dei più significativi a favore della popolazione civile non rifaccio tutta la lista da nave vulcano in poi però credo che anche eh si debbano ringraziare i medici dei nostri ospedali pediatrici che in Italia stanno curando hanno curato finora almeno 40 bambini palestinesi che sono qui con le loro famiglie è un lavoro pure che stiamo continuando quindi il fatto di chiedere chiarezza eh su quello che è accaduto rispetto a Urva non ci impedisce affatto di continuare a lavorare sul piano umanitario per eh per i civili di casa eh dopodiché voglio dire al collega di Luca che parlava del PNRR guardi io per carità ho visto ho sentito dire un po' di tutto dall'inizio dell'operato di questo governo in tema di PNRR insomma l'Italia non sarebbe riuscita con il governo Meloni a spendere i soldi del PNRR se l'Italia avesse voluto rinegoziare il PNRR avremmo perso i soldi del PNRR in alcuni casi ho visto anche un lavoro fatto perché non ci venissero pagate le rate del PNRR guardi le voglio raccontare questa storia se me lo fate raccontare ve lo dico le voglio raccontare questa storia che poi ognuno giudicherà come crede quando noi eravamo in discussione la terza rata c'era un problema che riguardava gli studentati universitari che nasceva diciamo tra una differenza di interpretazione tra il precedente governo e la commissione europea su come si dovessero raggiungere questi posti letto universitari nel senso che il governo italiano davano interpretazione per cui si potevano considerare nuovi posti letto universitari anche diciamo posti letto che esistevano già ma che venivano avvocati unicamente agli studenti universitari e la commissione europea invece sosteneva che questo non fosse possibile secondo me lo dico con chiarezza aveva ragione il governo italiano ma su questo c'è stata una lunga trattativa che poi ci portò a dover rinvia diciamo inserire la materia nella quarta rata nella rata successiva ora mentre noi svolgevamo questa complessa trattativa chiaramente per salvare queste risorse arrivare all'obiettivo cercare una soluzione ripeto su una posizione che secondo me era corretta da parte del governo italiano ma che la commissione non accettava perché pareva che durante il cambio di governo adesso se ricordo bene ci fosse stato uno scambio di informazioni che però non era stato intercettato e quindi eravamo in questa impasse io mi ritrovo con una lettera mandata dall'Unione degli Studenti e la CGL Ursula von der Leyen per dire Ursula von der Leyen guarda che l'Italia questo obiettivo degli studentati non lo ha raggiunto e quindi forse dovreste prendere in considerazione l'ipotesi di non pagare la rata allora io non credo che una nazione nella quale tutti vogliono remare nella stessa direzione ci si debba comportare così penso che in una nazione del genere ci può aiutare il governo a tentare di risolvere un problema ma non si possa cercare di lavorare perché l'Unione Europea non paghi la rata del PNRR per poi poter dire che il governo non è capace a farsi pagare le rate del PNRR perché questo vuol dire anteporre gli interessi di parte agli interessi complessivi della nazione ed è qualcosa che io non condivido in ogni caso le cose fortunatamente non sono andate e non stanno andando come qualcuno temeva o come qualcuno sperava perché penso che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che mentre noi avevamo le paginate dei giornali e le dichiarazioni che spiegavano attenzione al PNRR perché il governo non ce la farà nello stesso anno noi abbiamo portato a casa la terza rata la quarta rata siamo la prima nazione d'Europa ad aver presentato gli obiettivi della quinta rata abbiamo rivisto il PNRR liberato 21 miliardi e l'Europa dice che siamo la prima nazione d'Europa nella realizzazione del PNRR questi sono i fatti poi quello che a me dovrebbe stupire ma non stupisce è che invece di essere contenti che l'Italia sta facendo bella figura sul PNRR vi dispiaccia così tanto e vabbè lo capisco lo capisco dopodiché sanità collega De Luca arrivo sanità PNRR assegna complessivamente alla sanità alla salute 15 miliardi e 625 milioni dopo la revisione del PNRR la dotazione alla sanità è di 15 miliardi 625 milioni di euro ai quali si aggiungono 500 milioni che noi abbiamo messo per l'incremento dei costi delle materie prime quindi le risorse non sono state tagliate le risorse sono grazie infatti prego però siccome è stato sostenuto che fossero state tagliate sto rispondendo sul fatto che non sono state tagliate perché lo state dicendo noi grazie prego collega onorevole dopodiché per il resto è l'impegno che noi chiediamo a tutti è di assicurare ovviamente la realizzazione degli interventi che sono nel PNRR che sono nel piano nazionale complementare nei tempi previsti è in corso una verifica sulle risorse dell'articolo 20 al momento risultano più di 2 miliardi ancora da programmare oltre a quelle ancora in istruttoria e quindi stiamo operando questo lavoro ieri il ministro Fitto e il ministro Schillaci come saprete hanno incontrato gli assessori regionali di tutte le regioni proprio per affrontare questa materia quindi anche su questo stiamo andando avanti cercando di fare del nostro meglio pur con una situazione che abbiamo ereditato che non era esattamente perfetta ma stiamo stiamo andando avanti bene e confido che tutti cercheranno di dare una mano per un progetto che è molto importante per l'Italia tre cose velocissime due cose velocissime Provenzano collega Provenzano ma è stato detto anche ieri da altri colleghi su questa riunione tra Francia Germania Polonia io capisco insomma ovviamente di tutto si fa si fa politica ma credo che conosciate un formato che si chiama formato di Weimar che coinvolge Francia Germania e Polonia che è stato istituito credo negli anni 90 che si è riunito per diversi anni che poi ha smesso di riunirsi perché diciamo il governo della Polonia era meno ben visto di quello attuale dalla Francia e della Germania che adesso è tornato a riunirsi e quindi dire che questo abbia escluso l'Italia francamente quando l'Italia diciamo non sta in questo radar mi pare una diciamo polemica sterile no ecco perché non è il caso di questa riunione non c'è stata nessuna esclusione dell'Italia nel caso specifico dopodiché sempre collega Provenzano dice che l'interesse dell'Europa in tema di immigrazione è distribuire migranti e vabbè ma su questo non siamo d'accordo io penso che gli interessi degli europei e dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea stiano dove decidono i cittadini europei quello che i cittadini di quegli stati membri quello che i cittadini italiani ci hanno chiesto di fare con il loro voto non è redistribuire migranti illegali che arrivano in Europa è impedire le partenze di gli immigranti illegali che arrivano in Europa e poiché io credo nella democrazia è esattamente quello che lavoro per realizzare e sono molto fiera del fatto che oggi il lavoro sulla dimensione esterna come dimostra la missione in Egitto come dimostra il mucco oggi la posizione italiana sia diventata la posizione europea piaccia o non piaccia quella posizione so che non la condividete ma la condivide la maggioranza degli italiani è quella che porteremo avanti l'Italia oggi sul tema migratorio è riuscita a diciamo non voglio dire ovviamente imporre ma insomma è riuscita a convincere sulla sua posizione i propri partner significa che se volessimo mutuare mamma mia significa che se volessimo mutuare significa che se volessimo mutuare a diciamo a quello che accadeva prima la vostra posizione era redistribuiamo i migranti non siete riusciti a redistribuire i migranti noi vogliamo lavorare sulla dimensione esterna stiamo riuscendo a lavorare sulla dimensione esterna questo fa la differenza su quanto conta l'Italia in Europa grazie grazie a tutti